Ciao, mi chiamo Barbara, vengo da Cuneo, sono qui alla clinica Pallavoro Medical Laser per un intervento al seno. Anche se ho avuto una bambina, che adesso comunque ha cinque anni, quindi speravo che mi rimanesse, invece mi è andata male, perché da quando avevo comunque sia 18 anni che ho questa idea di farlo. Tramite la mamma di una mia amica che è stata qui, mi ha consigliato di rivolgermi a questo studio. Sono venuta giù una settimana fa, ho fatto la visita, mi hanno molto assicurato sul prima e il dopo e durante l'intervento e ho deciso di farlo. Per cui noi avremo un seno, una terza. Una terza? Una terza. Oddio. Una terza. Il 165 più quello che hai, è una terza. Ok. Per fare una terza, ci vuole una terza, ci vuole una terza, ci vuole una terza. Va bene. Avremo il risultato e ci vediamo. Bene, finisimo, quello che voglio. Grazie, dottore. Oh, spero che il dopo sia una cosa che mi soddisfia, anche se ho già visto dei risultati tramite immagini e tramite anche persone con cui ho parlato. Vediamo come va. Grazie. 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 Ciao, sono qui dopo un mese e mezzo dall'intervento. Sono molto contenta del mio risultato e direi ottimale proprio come effetto d'occhio e le dimensioni e proporzioni sono proprio quelle che volevo, a cui aspiravo. Lo rifarei altre mille volte perché è un intervento che mi ha comunque cambiato in meglio anche a livello oltre estetico, mentale, perché io prima avevo una zero, quindi adesso ho una bella terza e devo dire che molto soddisfatta, molto. molto soddisfatta. Grazie. Sono andata al mare, ho sfoggiato il mio decoltè strepitoso. Devo dire che ho raggiunto il mio obiettivo e sono veramente soddisfatta. Grazie. 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 Grazie.